Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo video molto molto speciale, molto molto faigo per quello che sono riuscito a recuperare Fa parte praticamente, dovrei far parte diciamo del prossimo video acquisti ma ho voluto dedicargli una parte a se stante Quindi il video acquisti effettivo delle ultime cose che ho recuperato lo vedrete penso metà settimana prossima Ma questo, diciamo, questo oggetto, questo blocco che ho recuperato oggi meritava secondo me un video a se stante Quindi vi faccio vedere subito che cosa si tratta, l'avete già visto chiaramente dal titolo Boom! Ecco qua, oggi torno dal mio solito giro al mercatino dell'usato Che cosa trovo? Trovo un bel NES Control Deck Per chi non lo sapesse, è tra l'altro tutto tenuto veramente da dio La scatola è veramente in condizioni perfette, non ha una ammaccatura, non ha un niente E prende la versione del, diciamo, scatolata quella del NES, quella con due pad, quella a base diciamo Sarebbe figo aver ottenuto il Deluxe 7 ma insomma non siamo così fortunati e procurati Comunque per una modica cifra sono riuscito a trovare questo oggettino Aneddoto carino della giornata che vado alla cassa per prendere un paio di giochi PS2 da 3,90 E nel frattempo vedo il tipo che sta imballando dei giochi del NES Dico, ma scusa, cosa stai facendo? Immagino che quella roba sarà già venduta No, guarda, mi sono arrivati dieci minuti fa Biondo non mettere neanche il prezzo che è tutta roba mia Quanto vuoi, metto quanto voleva, prezzo abbastanza abbordabile E così l'ho preso E appunto, qua abbiamo, ho già tolto il contenuto perché voglio farvi vedere appunto quello c'è dentro Control, il NES control deck Comprende appunto la console, due pad e chiaramente la cavetteria E tra l'altro ci sono puri manuali in termini di questa cosa, fighissima Guardiamo un attimino tutti i vari lati della confezione Questo è quello frontale Sono i lati, questo qua che ci mostra appunto la zap Che non è inclusa nel, diciamo, nel set ma è acquistabile separatamente Dall'altra parte abbiamo l'esempio di alcuni giochi fire che possiamo giocare Tipo appunto, The Legend of Zelda, Red Racer, Tetris e Super Mario Bros 2 Che poi non era effettivo Mario Bros 2 perché era un altro gioco Doki Doki Panic se non sbaglio E poi ce ne citano tanti altri E dietro abbiamo una simpatica immagine della console Con una famiglia, la Lega, che gioca al NES con il NES spento Quindi questa è una granissima figata perché dovrebbe avere tipo il lampeggio rosso Dovrebbe essere la spia rossa accesa Giocano con un NES spento Grande operazione di marketing Comunque, questo è il NES La scatola del NES All'interno abbiamo, faccio vedere tutto C'è anche il polistirolo ma l'ho tolto prima perché a me il rumore del polistirolo Crea dei brividi, dei... Ah, non mi fa senso E troviamo appunto il NES, tenuto molto molto bene Leggermente... Solo un pochino da polire perché è un pochino impolverato Giustamente sono passati un po' di anni Andiamo a vedere leggermente per chi non lo conosce Le cartucce vanno appunto infilate qua C'è questo sportino che si apre e cigura anche abbastanza Si infilano e tac, si mette giù E c'è poi il tasto di accensione che è appunto questo Nel momento in cui lo accendete la spia diventa rossa fissa E nel caso in cui non ci sia la cassetta dovrebbe lampeggiare E questo è il tasto di reset Abbiamo poi le due porte per i controller Che appunto vi farò poi vedere tra poco Lateralmente abbiamo gli ingressi per gli spinotti video e audio Appunto per collegarlo tramite sculpt Che è molto più comodo soprattutto se volete giocarlo su TV e CD Non ve lo consiglio perché questi sono giochi che vanno attaccati assolutamente A TV vecchio e tubo cattolico perché rendono mille volte di più Se poi avete un Sony Trinitron come ho io Siete a posto cioè non plus ultra assolutamente Però diciamo che è la maniera più comoda adesso di collegare Per evitare di collegare tramite cavo antenna E appunto dietro abbiamo l'alimentazione e il cavo antenna E una volta c'era da impazzire per cercare il canale eccetera eccetera Perché era veramente una rogna E poi all'interno c'erano due pad Eccoli qui ve ne faccio vedere solo uno Allora sono uguali Due pad classicissimi Tutti molto molto bene Non è facilissimo trovare questi pad tenuti in buone condizioni Senza fili, cavi strappati o parti mancanti Perché gli anni cominciano a passare Appunto due pad E li appoggiamo qua dietro Se no fa un po' non ci prendiamo più C'è la cavetteria che non vi faccio vedere Ci sono poi tutte le varie manualistiche Nel caso il control deck Questo qui C'è l'antenato del Nintendo Club Quello che c'è Che adesso poi tra l'altro Che viene chiuso e riaprirà sotto altro nome Club Nintendo Qua si poteva diventare socio del Club Nintendo Compilando questo affare Non mi ricordo che cosa dava diritto al Club Nintendo Tipo forse Ti mandavano a casa dei gadget O comunque avevi tipo supporto telefonico Nel caso rimassi impiantato in qualche gioco Roba del genere Comunque era molto faida come cosa E poi altri foglietti vari Qua pubblicità degli zai In Gran Nintendo Vediamo un po' Non mi ricordo anche più come Ah si fighissimi Classici zani anni 90 Con i bretelloni Carino Peccato che Super Mario Non sembri Super Mario in questa foto Vabbè Non fa niente Qua altro bollettino Per diventare fan del Club Nintendo E altra roba Mattel Tra l'altro La console Il deluxe Il control set È brandizzata Mattel Quindi Prende ancora più valore Perché c'è sia GIG che Mattel La versione Mattel Che è quella precedente Che chiaramente Stavano cominciate Diciamo Stampate Stampate Prodotti in minor copie Ha molto più valore Da un certo punto in avanti I giochi NES E comunque Super Nintendo Eccetera Sono passati Da Mattel a GIG E quindi hanno sempre Il loro discreto valore Però la versione Mattel Ne ha sicuramente di più E poi all'interno c'era Un extra Prima di farvi vedere i giochi C'era il Game Genie Che è appunto Questa sorta di Chiamiamola Action Replay Che appunto Si inseriva A posto della cassetta E permetteva Di caricare dei codici Per determinati giochi Qua c'è un fogliettino a caso E qua c'è Tutto il libretto Del Game Genie Sono tutti i giochi Elencati Che appunto Supportati da questo Game Genie E ci sono tutti i vari codici attivabili Per esempio Apriamo una pagina a caso Attiviamo il codice Per Non so Chip and Dale Energia Infinita Per esempio Ci sono tutti i vari codici Molto molto bello Tra l'altro Io l'altro giorno Ho fatto una live su Twitch Di Tartos 2 C'era anche i codici qua Per Tartos 2 Che sarebbero tornati Molto molto comodi Super Mario Bros 3 Vite infinite Salti potenti Molto figa come cosa Molto molto interessati C'era un mio amico Questo affare qua E' un qualcosa di un po' particolare L'antenata dell'action replay Diciamo E poi C'erano tre giochi In realtà Ho scoperto che ce n'era un quarto Perché quando vado per aprire la console All'interno ce n'era infilato un quarto Che è questo qua C'era semplicemente la cartuccia Di Teenage Teenage Mutant Hero Tartos Il primo Io avevo il secondo Quando ero ragazzino Avevo il secondo Ragazzi no Bambino Avevo il secondo Completissimo Poi è andato Perduto Chissà dove Comunque Cartuccia Di gioco Del primo gioco Del Trattore Ninja Molto molto faigo C'era poi La classica cartuccia Mario Bros Duck Hunt Peccato per questo sbrego Qua Si è tirato su un po' La plastichina L'adesivo Ma io lo incollerò Sotto con un po' di colla E chi si è visto Si è visto Questi due li tengo E poi ci sono altri due giochi Due giochi Vi faccio vedere Il primo Che ancora non ho venduto Se non lo faccio vedere Per ultimo E tra l'altro è dedicato a Paolo Perché l'ha comprato lui Giochi tenuti Perfettamente Entrambi Jig Ancora con L'adesivo Del sigillo Nintendo Quello nero Che teneva chiuso Appunto Il coperchio della scatola Super Mario Bros 3 Comprato Per l'etichetta Alex Compiuta Il 99.900 lire Tenuto Da Dio Guardate che roba Che condizioni Che è questo gioco Bellissimo Super Mario Bros 3 Possione Chiaramente italiana Jig Lo apriamo Come potete vedere C'è ancora il sigillo Qua a Nintendo Qualche fullbuster Avrebbe potuto Avendolo come Sealed Quando in realtà Non lo è All'interno c'è Il polistirolo Chiaramente in fondo Che Dio solo sa Quanto è difficile Trovere giochi del NES Ancora con il polistirolo dentro La cartuccia La cartuccia Chiaramente di gioco E Il manuale di istruzione Tenuto veramente Da Dio E il libretto di istruzione Di Super Mario Bros 3 È tipo Il libretto di istruzione Più bello Della storia di videogiochi È stupendo Grazie a Valentino Rossi Che poi è stato a casa mia È bellissimo Perché fa una presentazione Dei vari personaggi Qua Dei Bowserotti I Koopalings Ci fa vedere Tutto il tutorial Praticamente Su come si Quali sono i comandi Eccetera Eccetera Ci presenta Se non sbaglio I power up Sì Eccoli qua I power up E poi Se non sbaglio Anche sì Tutte le varie Vari nemici Eccetera Eccetera È molto bello Di questo libretto qua Penso che Meriterebbe E fare uno speciale Solo su questo Su questo gioco In generale Su Super Mario Bros 3 Perché È una piccola Pietra miliare È uno dei miei giochi Preferiti E assolutamente Mi resterà Sempre nel cuore Ha un libretto di istruzioni Che è veramente Qualcosa di fenomenale Io all'epoca Mi ricordo che lo sfogliavo Di continuo Perché Ti faceva veramente Con un semplice Libretto di istruzioni Poi all'epoca Non c'era internet Non c'era tutte queste informazioni Sui videogiochi Guardare semplicemente Questo libretto di istruzioni Ti faceva volare Era veramente stupendo E poi questo La bomba L'ho venduto già a Paolo Questo Non me l'ha fatto neanche arrivare a casa Questo appena l'ha visto Me l'ha comprato E lo ringrazio Tanto sarebbe andato Comunque in vendita Questa qui è una bomba Assolutamente una bomba È molto raro da trovare Paolo che Fiuta sempre gli affari L'ha preso E Secondo me ha fatto un gran colpo Mario Bros Questo gioco Tenuto Se è possibile Ancora meglio Di Super Mario Bros 3 Tenuto divinamente Guardate che roba Sembra che sia uscito adesso Dal Da uno scaffale Dell'epoca Tenuto molto molto bene Anche questo Con il sigillo Nintendo Quindi insomma Anche questa è una cosa in più Qua abbiamo la Cartuccia Di gioco Già tra l'altro testata Provata Funziona benissimo Quindi qua Per Paolo Che lo sta vedendo In questo momento E il libretto di istruzioni Che è tenuto Come nuovo È leggermente più sottile Dell'altro Ma c'è anche meno Meno roba da far vedere Sostanzialmente Quindi Questo è Guardate un po' qua Tutto qui Perfetto Questo più che altro Lo faccio vedere Per Paolo Perché Ancora non gli avevo passato Le foto Allora colgo l'occasione Per fargli vedere Direttamente in video Il tutto E quindi Questo è stato Un grandissimo colpo Io ultimamente Devo dire Lo ammetto Sono abbastanza Paraculato Questo si Se riesco a infilare Di nuovo La cartuccia Benissimo Sono abbastanza Paraculato Devo ammetterlo Non me ne vergogno E molti Mi hanno già mandato A cagare Per la mia fortuna Sfacciata Però Insomma Mi concedo Anche un po' di queste cose Siccome la mia vita Faccio abbastanza Cagare di sua E devo fare Poi un video acquisti Chiaramente Volevo dedicare Per una parte Solo a questo Perché meritava la pena Secondo me E ho recuperato Un po' di roba E tra l'altro Se vi interessa qualcosa Che avete visto In questo video Cioè Il NES Super Mario Bros 3 Perché le due cartucce Le terrò Mi potete contattare Magari sulla pagina Del negozio Farber In shop Trovate tutto lì E trovate anche Tutti i vari acquisti Che ho fatto ultimamente Che sono parecchi Devo fare poi Un video acquisti In cui ho recuperato Un po' di roba Venti Ho recuperato PS Vita Ma qualcuno già lo sa Perché C'è un aneddoto Anche da raccontare Su quello Insomma Sarà molto particolare Ma vi do appuntamento Per tutto questo Tutti i vari acquisti Menate varie A metà settimana Più o meno In cui farò Un video acquisti Generico di tutto E niente Però ci possiamo salutare Vi ricordo solo Gli ultimi appuntamenti Che andrò avanti Appunto Con New Super Mario Bros 2 Prendiamo la palla al balzo Per dire questa cosa Continuiamo a fare Live su Twitch Ho iniziato a fare Final Fantasy 9 Ma porca pittana Da sempre Di problemi Rallenta la bestia E allora Lo sospendo per il momento L'altro giorno Ho fatto Tartaruga Ninja 2 Tartus 2 L'ho giocato In live Tra l'altro Con il commento Su TeamSpeak Con degli amici Quindi Mi sono divertito molto Tra l'altro Amici che mi seguono Sempre sul gruppo Di Whatsapp Quindi chi si vuole unire Mi lascia in uno Che ci divertiamo Sempre un macello Tutto il giorno E quindi niente Questi erano i progetti Farò live su Twitch E continuerò gameplay Chiaramente in maniera classica Quindi Provate tutto Pensiamo di non aver dimenticato niente Vi ringrazio per aver visto questo video Vi ringrazio Per aver visto questo video Il bello della diretta Ci salutiamo Ci vediamo in un prossimo video Bye bye